Sabato 13 a Torino sento il dovere di consigliare a tutti, ma appena leggete il programma credo che vi troverete d'accordo con me, la celebrazione di un anniversario, compie 300 anni il Santuario della Consolata, che come sapete è una delle chiese più famose di tutto Torino, più accogliente insomma più tipiche, in cui meglio si identifica direi la spiritualità di Torino, beh questo grande anniversario verrà celebrato in chiesa, all'interno della chiesa, che ha un'acustica un po' difficile, ma insomma sono andato a fare dei sopralluoghi e mi è parso di avere trovato una soluzione, con un capolavoro cameristico, verranno eseguite le Marianleben, cioè la vita di Maria di Paul Hindemith, è un componimento che dura quasi un'ora, cioè c'è un ciclo di liriche composte da Rainer Maria Rilke, liriche di grande bellezza, che sono state musicate da Hindemith per una voce di soprano con l'accompagnamento di pianoforte, gli esecutori sono veramente molto bravi, eseguono benissimo questo lavoro e si tratta del pianista ballista e della cantante inglese Lorna Windsor.